Io sarei lo strumento, quello che guarda troppo la televisione, beh qualche volta lo sono stato, l'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare di tempo per cambiare, ce n'è niente, così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito da torero, una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano, lontano, ma ecco che si avvicina, con un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo, l'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da su, un cuore nella borsa.